Una porta igienizzante per meglio affrontare la difficile battaglia al Covid-19 è stata installata all'ingresso del carcere di Castronio di Teramo. Un dispositivo innovativo, un tunnel da attraversare che rilascia una miscela di alcol e acqua ossigenata nebulizzata in grado di neutralizzare il virus. L'iniziativa, sostenuta dal garante dei detenuti della regione Abruzzo Gianmarco Cifaldi, è stata finanziata dal Rotary Club di Teramo. Il Rotary, per la verità, ha posto in essere una serie di iniziative finalizzate a dare un contributo per fronteggiare, sebbene in minima parte, l'emergenza sanitaria. E all'interno di queste iniziative si colloca anche la cerimonia che stiamo per vivere questa mattina in ordine alla consegna di un tunnel sanificante per la casa penitenziaria di Teramo. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di proteggere il carcere dal Covid-19, ovviamente in questo periodo molto particolare. Abbiamo avuto la sensibilità del Rotary Teramo che ha donato, sotto iniziativa del garante, l'ufficio del garante regionale, questo gate particolare, questa porta sanificante che permetterà non solo alle persone che andranno a visitare i propri cari in questo periodo, di proteggerli e soprattutto tutto il personale, tutti i fornitori, tutto quello che entra e esce, di coibentare il Covid fuori dal carcere. Per evitare ovviamente quello che è successo sul Mona, che tutti sappiamo, col rischio di creare un ceppo infettivo all'interno del carcere. Intanto il comandante del carcere di Teramo, Livio Recchiuti, annuncia che non sono stati riscontrati casi di positività all'interno della struttura dopo l'ultimo screening di tamponi. La situazione al momento è tranquilla, non abbiamo nessun caso di positività, l'abbiamo avuto in passato di un detenuto ma che è entrato al permesso e il sistema ha funzionato perché è stato intercettato presso la sezione isolamento. Noi abbiamo sezione isolamento in cui vengono eseguite le quarantene cautelari dei nuovi giunti e anche dei permessati. Al momento non abbiamo situazioni di positività, lunedì abbiamo fatto uno screening di massa con tamponi molecolari grazie all'asli di Teramo e abbiamo sottoposto a tampone tutto il personale di polizia e l'amministrazione, anche tutti i detenuti. Oggi abbiamo avuto risultati ufficiali, non ci sono casi di positività. Inoltre conclude il garante Cifaldi, sono stati consegnati alberi di Natale per le prossime festività ad ogni istituto penitenziario abruzzese oltre a doni per i detenuti e i loro figli.